hola a todos io sono chronox ben ritrovati nel mio canale come sempre nel primo commento vi lascio il link al giveaway che è del tutto gratis quindi mi raccomando partecipate che a tutti i partecipanti vi farò vedere il vincitore in più vi ricordo che nel primo link in descrizione trovate quello per donare nel caso vogliate supportare il chronox nazionale ma adesso passiamo subito in game la antres tirava frigoriferi invece questa se non sei preciso al millimetro non lo prendi il survival no comunque no 0 dbd ma è più un po di roba tirato a giusto perro che voglio sfondare prima la roba qua bene mi sto portando molto avanti che sto ragionando tutta sta roba no no kau no 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 Più o meno Questi già stanno lavorando Scappa Non vedo più il cazzo, GG Lollo, questa già è morta Poverina Bella, Daisy C'è anche Parsifal Oddio Ha regguitato, mi sa L'avevo fatto regguitare Questo è pazzo Pazzo proprio Pazzo scatenato E' da da Muore Ma che sei tipo abbagato Perché vedo verde E' da da E la tipa svanita nel nulla. Nooo. Presa. Già sto iniziando a giocarla meglio rispetto alla prima partita. Che ne dite voi? Che ne dite voi? Non mi sa se si è cagato in mano questo. Manca l'ultimo. Non lo vedo. Dove cavolo è? È in qualche armadio mi sa. Non si trova. Dove cacchio è? È qua. Sfigato. C'è il tempo è nascosta in armadio. Headshot bitch. Eh ma ormai è sponata la sua amichetta. Non vedo niente. Ma che sfiga. C'avevo qualcosa davanti. Dunque lei è molto più complessa eh. Uh madonna che hit raga. Che cazzo di hit. Che hit. Scontato proprio. GG. Bella. Mi è piaciuta sta partita come l'ho fatta. Come l'ho gestita. Bella bella. Voglio vedere quanti punti ho fatto. Sono curioso. Innanzitutto livello 22. Dai muoviti. 876. Eh un bel po' di punti dai. Ci sta. GG. Vediamo cosa esce nel greedy pot. Qualche cagata come sempre. Infatti. Eh.